Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione tra Campania, Puglia e Lazio a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emessa dal GIP del Tribunale di Napoli relativo a beni del valore di circa 8 milioni di euro. I soggetti coinvolti, denunciati per omesso versamento dell'IVA e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sono due partenopei e prestanomi pugliesi, soci e amministratori di tre società operanti nel settore del copercio di telefonini che hanno messo il versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Le investigazioni condotte dal primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli sono scaturite da un controllo in materia di lavoro nero nei confronti di una delle società coinvolte e hanno permesso di documentare il fraudolento modus operandi finalizzato ad un utilizzo strumentale della CD in versione contabile dell'IVA. Le società in questione infatti hanno acquistato telefoni cellulari senza IVA, omettendone il relativo versamento all'atto della rivendita. In tal modo di davanti debito di imposta nei confronti dell'erario non veniva in alcun modo rimpianato in quanto le società indebitate venivano svuotate ad arte dei loro beni per evadere il fisco. I finanzieri sono riusciti di fatto a dimostrare la continuità aziendale tra le tre società che hanno tutte mantenuto la stessa sede operativa, impiegato gli stessi dipendenti non chi la medesima piattaforma e-commerce.